È un programma quest'anno particolarmente ricco, sono appuntamenti molto diversi tra loro. Teatro Contemporaneo, Motus, con una ricerca su questa figura fondamentale dell'antichità che è Antigone. La stessa figura affrontata con un diverso sguardo da Elena Bucci e Marco Sgrosso. Era Tostenes, che invece è un appuntamento, un curioso appuntamento che lega la scienza, la poesia e la conoscenza. E poi si conclude con una commedia che vedrà protagonista Vanessa Incontrada, una commedia plautina dove sarà coinvolto il pubblico. E un altro appuntamento è quello con Mingarelli, Medea's Dream. Tra l'altro qui c'è una chicca perché sono coinvolti anche dei ragazzi di Recanati, incontrati in un laboratorio da questo giovane regista che fa parte della piattaforma Matilde. Innanzitutto sottolineiamo che siamo arrivati a quota 22, sicuramente un grande risultato perché ormai ci pone come evento fisso, costante, di quella che è la rassegna provinciale, ma oserei dire anche regionale, che ogni estate viene offerta. Sicuramente per noi è un qualcosa di molto importante anche perché uno degli obiettivi principali di questa stagione è proprio cercare di valorizzare il parco archeologico di Urbisaia, che ricorderei essere il più grande della regione Marche e in continua crescita e evoluzione, visto che è sede permanente delle campagne di scavo dell'Università di Macerata, e in qualche maniera far rivivere questi monumenti. Quindi la stagione è sicuramente di fondamentale importanza e magari è il caso di ricordare che quest'anno per la prima volta apriamo le porte di un nuovo monumento agli spettatori. Al criptoportico infatti ci sarà il Medeas Dream di Mingarelli e quindi gli spettatori dopo l'anfiteatro e dopo il teatro avranno modo di vedere anche quest'altro importantissimo pezzo, elemento del nostro parco archeologico.